La domanda classica che si fa un bambino, dice cosa vuoi fare da grande? Ah, dice da grande io voglio fare il cantante, ma questa è stata l'ultima cosa, perché prima ho fatto il musicista. Ma da bambino già a 4 anni ero su un palcoscenico a recitare le cose locali, le cose paesane, le cose che insegnavano le suore addirittura. E poi attraverso mille sofferenze arrivare a studiare in conservatorio qui a Pesaro, un percorso lunghissimo perché dopo 12 anni, conseguendo vari diploma, pianoforte, l'ultimo diploma di canto, quindi ho suonato in orchestra come primo corno in orchestra, poi primo tenore del coro della scala dopo aver vinto un concorso internazionale e poi nel 92 ho iniziato l'attività di tenore solista in tutto il mondo. E poi attraverso l'attività di tenore del coro della scala. Goppa stifronne rosa 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 a mio malgrado io vengo a darvi una fatal notizia. Secondo gli ordini vostri, rapido dirigente, di qua di là ho cercato ma vale furne cure. Da gran tempo è tutto ritenuto e riservato, non si trova un cavallo da comprar o affittare. E ognun di voi al nobile progetto di rinunciare purtroppo orfia costretto. Se pronti al tuo potere, sono elementi e sfere, tuo amico scampo attito al dubbio errante di lei. Sui labri, sui labri tuoi, trovo quest'almo pressa. non si trova, non si trova, non si trova. che dividerà. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.